Benvenuti a tutti, sto facendo questo tutorial per molte richieste dei miei amici Allora, su come fare un sfondo a quadrettini Allora, prima di tutto facciamo un file Settiamo 1024x768 Ok Fatto questo, andiamo qui Col tasto destro, selezioniamo sfumatura Impostiamo quella che vogliamo E' più... Stava bene E facciamo la sfumatura Ok Fatto questo, andiamo su filtro Galleria filtri Ok Andiamo su texture E dopo su patchwork Come vedete Qui si faranno dei quadrettini Qua possiamo impostare la dimensione Un set va bene Ok Ecco qua Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti